Oggi abbiamo il piacere di presentare oggi un volume che raccoglie scritti di diversi autori ed è curato da Cristiano Dal Pozzo, da Federica Negri e da Arianna Novaga. Il libro si intitola L'altro volto del reale, il virtuale nella comunicazione e nelle arti contemporanee ed è stato pubblicato da Mimesis. Comunicazione e arti sono due ambiti applicativi delle tecnologie di realtà virtuale che ci stanno particolarmente a cuore ed è per questo che siamo particolarmente grati a Cristiano e a Federica per aver accettato il nostro invito. Doveva esserci anche l'altra curatrice Arianna, però impossibilitata purtroppo a partecipare, ma la rincontreremo senz'altro in future occasioni. La moderatrice del nostro incontro questa sera è Fabrizia Bandi. Fabri, ti lascio subito la parola per la tua introduzione ai nostri due ospiti. Grazie. Buonasera a tutti, rinnovo anch'io il mio benvenuto agli ospiti di stasera. Sarò molto sintetica e quindi procedo a presentarvi appunto i nostri ospiti. Allora, Cristiano Dal Pozzo è docente di teorie della comunicazione ed estetica del cinema presso lo IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona, presso il Dipartimento di Comunicazione. I suoi campi di indagine riguardano principalmente la teoria e l'estetica dei media e del cinema. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Introduzione al linguaggio cinematografico, centro audiovisivi del 2013, Fuoricampo dentro e oltre l'immagine cinematografica, Libreria Universitaria 2012. Federica Negri è docente di estetica e antropologia filosofica presso lo IUSVE di Venezia e Verona e collabora con la Cattedra di Storia della Filosofia Contemporanea e con il corso di dottorato in estetica dell'Università di Padova. La sua ricerca si concentra sulla filosofia contemporanea di area, soprattutto francese. Tra le sue pubblicazioni vogliamo ricordare Il Punto cieco, note sull'occhio e lo spirito di Maurice Merleau-Ponty, di Ibriria Universitaria.it del 2013. Ti temo vicina, ti amo lontana, Nietzsche, il femminile e le donne, edito da Mimesis nel 2011. Insieme, Cristiano Dal Pozzo, Federica Negri e Arianna Novaga hanno già curato insieme il volume La realtà virtuale, dispositivi estetiche e immagini, edito da Mimesis nel 2018. Come anticipato il professor Pinotti nei saluti e nell'introduzione, questo volume raccoglie gli esiti di una giornata di studi internazionale che si è svolta nel dicembre 2019, appunto, presso il Dipartimento di Comunicazione dello IUSVE. È l'atto conclusivo di un progetto di cui sicuramente i curatori avranno modo di parlarci. È un volume che veramente raccoglie una ricchezza di contributi e non voglio banalizzare assolutamente il titolo, ma anzi rivestirlo di tutta la sua capacità espressiva. Ci racconta questo virtuale come veramente espressione di tutte le moltiplicità dell'altro volto del reale. E veramente le quattro sezioni in cui si sviluppa il volume raccontano veramente i diversi volti che questo virtuale può assumere. In particolare, come ricordano gli autori stessi, c'è sicuramente uno dei punti di partenza fondamentale è l'interrogazione sullo statuto ontologico dell'immagine, ma ciò che poi si, come dire, si vince anche dal sottotitolo, che è sicuramente un'altra parte importante, che già ci dice molto dell'opera che andremo a scoprire stasera, il virtuale nella comunicazione e nelle arti contemporanee, in questo volume si ripensa molto il concetto stesso di virtuale, quindi non soltanto, cito gli autori, come costruzione di un'immagine falsa come modalità ontologica, ma come condivisione esperienziale a distanza e quindi costitutivamente relazionale. Allora, tra poco lascerò la parola ai nostri due curatori, e che sicuramente ci spiegheranno, diciamo, lo spirito e l'intenzione di questo volume, anche in relazione appunto a questo progetto, ma poi si soffermeranno anche in particolare sui loro contributi all'interno di questo volume. Quindi, prego, lascio la parola a Cristiano Dal Pozzo e Federica Negri. Grazie. Sì, grazie, grazie a voi innanzitutto, grazie per il vostro invito, che è un vero piacere per noi poter presentare il nostro lavoro qui con voi. Arianna, la tazza curatrice, come dicevate, anche voi si scusa, purtroppo non può essere presente. Sì, dunque, l'altro volto del reale, diciamo così, per descrivere un po' quello che per noi, l'altro volto del reale, siamo partiti da un simbolo, un simbolo che per noi fosse in grado di cogliere un po' questa molteplicità di cui appunto accennavate voi nella bella presentazione, di cogliere un po' le risonanze insite nel rapporto costitutivo proprio tra reale e virtuale. E quindi siamo partiti dall'immagine del Giano Bifronte, perché questo doppio volto, senza tempo, senza luogo, quindi un luogo indefinito della divinità, in qualche maniera ci sembrava una metafora visiva forte, utile, di sintesi utile, dialettica, proprio di questa molteplicità di cui accennavamo. Quindi questa è un po' la prefigurazione che ha dato un po' il là, diciamo, avviato la nostra riflessione sul rapporto tra arte, comunicazione e virtualità appunto. Si tratta, come si accennava poco fa, di un lavoro, di un'ideale continuazione, diciamo così, di un lavoro già avviato appunto nel 2017, abbiamo curato insomma una giornata di studi presso il campus di Verona dell'Università Salesiana di Venezia e Verona dello IUSWE appunto nel dicembre del 2017, dedicando il tema appunto della giornata di studi alla realtà virtuale. Questa giornata di studi poi è sfociata appunto di un volume edito da Mimesis nell'ottobre, mi pare, del 2018 che ha il titolo appunto La realtà virtuale e dispositivi estetiche e immagini. E già lì appunto avevamo in qualche maniera la necessità, trovato la necessità di superare e di superare queste dicotomie tradizionali che solitamente positive, che vedono appunto il reale e il virtuale. E lì l'avevamo fatto ricorrendo a un concetto che è quello di farmaco, quindi di vileno e di rimedio insieme. Lì l'idea di farmaco in qualche maniera ci permetteva di avere un fuse, un orizzonte unico e di senso, le due visioni appunto legate a, in questo caso più alla realtà virtuale, perché l'intento diciamo della giornata di studi e del volume appunto che poi ha preso vita da questa giornata di studi era quello proprio di identificare, di comprendere, di conoscere le relazioni che intercorrono tra realtà virtuale e diversi ambiti del cinema, della televisione, della fotografia e dell'arte in generale. Allo scopo appunto di ritematizzare, ritematizzare un rapporto, un rapporto diciamo che non può più essere concepito nei termini di una questione puramente tecnica ma pienamente umanistica. E lì su questo avevamo insistito nella nostra introduzione al volume precedente. Abbiamo avviato quindi una riflessione sulla creatività e l'immaginazione umana che si prolunga naturalmente, costitutivamente, in protesi e in propaggini tecnologiche e in particolare appunto in questo caso con la VR, con la realtà virtuale, appunto non vista più nei termini di un puro intrattenimento ludico, bensì appunto come strumento di speculazione teorica che ci sembrava manifestasse, manifesti, tuttora appunto delle dinamiche di riorganizzazione in qualche maniera del sensorio e della percezione, così come una serie di riflessioni sulla soggettività, sulla narrazione, sulla messa in scena, su alcuni elementi del linguaggio filmico. Se andiamo a vedere la realtà virtuale come prolungamento in qualche maniera o comunque come effetto post-cinematografico del cinema, penso ai termini da voi già ampiamente dibattuti, insomma di cornice, ma di primo piano, di montaggio. Dunque detto questo, dicevamo, noi siamo partiti in questo lavoro invece dell'altro volto del reale uscito nell'ottobre del 2020, dall'immagine, dicevo, del Giano di fronte. In questo senso per noi appunto l'immagine di questo doppio volto del reale e del virtuale insieme è una sorta di mirror world, di specchio, per usare i termini di videodato presenti nel testo, è un'apparenza sensibile, la chiamo. Una sorta di immagine cristallo, di coimplicazione, diciamo così, tra tempi e luoghi diversi, diciamo. Spesso ho visto sotto una lente di territorio come fosse un territorio fluido, ibrido, una piega del reale, dove un luogo dove il confine si fa territorio, non si mora in qualche maniera ontologico. Un'immagine, quindi quella del Giano di fronte, per noi utile per riprendere un po' le parole di che ho, di un virtuale come condizione del reale e viceversa, insomma, di un'idea che non esiste appunto un'opposizione, ma bensì esistono piuttosto dei diversi gradi di integrazione tra reale e virtuale, tra questi due volti appunto sempre compresenti. Ecco, indagare un po' l'alterità del reale nelle sue, nel culo delle sue declinazioni, insomma, è stato un po' il tentativo di questa seconda giornata di studi, che abbiamo organizzato appunto sempre presso l'IUSVE, presso il Dipartimento di Comunicazione, nel campus di Verona, questa volta appunto nel dicembre 2019. In questa occasione, che è stata ancora una volta un'occasione per incontrare numerosi studiosi italiani, è stato anche un terreno utile di confronto, di scambio, secondo prospettive critiche, metodologiche anche diverse, ma questo è stato anche il suo valore aggiunto. Diciamo che nel convegno appunto del 17 si è voluto anche riprendere questa impostazione che abbiamo tenuto nel convegno per poi riprenderla proprio come impianto strutturale del saggio, del libro, del volume, per dare voce e sostanza, insomma, a questo approccio un po' interdisciplinare, il dialogo, diciamo così, tra i saperi, un dialogo aperto anche a nuovi ricercatori. Quindi a dare voce a ricercatori anche provenienti da aree e discipline diverse che vanno dall'estetica ai film studies, ai media studies, alla semiotica, alla pedagogia, ai visual studies, eccetera. Questo perché? Perché rispandersi del virtuale ormai nel tessuto, ha permeato il tessuto della società contemporanea e in tutti i suoi settori, compresi, compresi ovviamente ormai, come ben sapete, quelli della comunicazione e dell'arte. Settori che proprio grazie all'impiego sempre più massiccio di tecnologia virtuale e non, appaiono sempre più appunto rimodellati da queste tecnologie con un effetto appunto retroattivo. Ecco, questa semplice riflessione ci ha portato poi quindi a interrogarci su, come accennavate anche voi, su due aspetti. il primo è quello che sono legati tra loro. Il primo evidentemente è quello dello statuto ontologico dell'immagine virtuale e conseguentemente quello del ruolo e delle figure del creativo e dell'artista in generale. Nel senso che appunto nel testo si parla di, all'interno dei vari saggi, di deep fake, che si parla di fake photography, di fake tourism, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui appunto abbiamo un'intelligenza artificiale o dei sistemi algoritmici in generale, diciamo, in grado di creare delle immagini false, ma perfettamente credibili, ci siamo domandati naturalmente quale può essere il ruolo futuro appunto della figura, diciamo così, dell'artista e del comunicatore. Per farciò, per avanzare delle ipotesi, perlomeno, abbiamo cercato anche appunto di definire l'ambito così di applicazione del termine, del termine virtuale, che non può più essere considerato, diciamo così, strettamente riferito alla sola realtà virtuale, in questo caso, quindi abbiamo aperto un po', abbiamo espanso il terreno di indagine, ma appunto quindi abbiamo inteso il virtuale, come dicevate anche voi, come una dimensione, un ambiente di condivisione, essenzialmente un luogo quindi di relazione costitutivamente relazionale e di intelligenza condivise. Intelligenza condivise che però appunto non è detto, dove uno dei due poli non è detto che sia sempre di natura umana. Quindi ciò che emerge, emerge un'idea di virtuale come spazio espressivo originale, uno spazio di sperimentazione, uno spazio interstizio, una piega del reale, dove appunto è possibile alimentare nuove dimensioni espressive, creative, immaginative, eccetera, eccetera, e che coinvolge appunto i diversi settori, può coinvolgere diversi settori disciplinari, di studio, quindi può essere affrontato, anzi più l'approccio interdisciplinare, evidentemente più la possibilità di indagare l'orizzonte di senso, di virtuale, sarà più calibrata. Quindi un reale, dicevo, che ha delle potenzialità appunto per lo sviluppo della creatività umana, comprese anche quelle, diciamo, derive di manipolazione dell'immagine a finialità più diverse. Facevo accenno prima appunto al discorso dei deepfake, con casi appunto noti, di manipolazione dell'immagine per scopi di propaganda, se non per diffamazioni, diffamazione in generale. Detto questo dunque, la questione è che immagini sono, tutto sommato, queste immagini prodotte appunto dalle nuove tecnologie, della virtualità, dell'intelligenza artificiale. Che cosa comunicano, quali novità rappresentano per la sperimentazione artistica? Che tipo di rivitalizzazione creativa possono portare? Sono tutte domande appunto, come dicevo, che investono tutta una serie di campi diversi, delle arti, dell'estetica, ma in generale anche investono quello che è il nostro statuto, diciamo così, del nostro sguardo sulla realtà e sul reale. inteso appunto nella sua complessità strutturale che abbiamo brevemente così rinunciato. Quindi si tratta anche, oltre che una questione estetica, anche una questione politica in qualche maniera. Cioè nel momento in cui appunto il virtuale, si va a indagare l'applicazione virtuale nella creatività, nell'immaginazione e quindi nel rapporto tra i nuovi media in generale e la comunità dei cittadini e quindi anche il loro modo di relazionarsi con il mondo, con l'infosfera in generale. Il caso, stiamo vivendo un po' tutti, siamo ancora qua confinati con queste modalità di comunicazione all'interno di questo appunto spazio relazionale, esperienziale, a distanza, ma appunto costitutivamente relazionale, come quindi questa possibilità espressiva e comunicativa che ci dà la tecnologia virtuale. Quindi da quanto emerge dai saggi che sono appunto diversi tra loro, ma appunto hanno, segnano, mi pare, si possa dire che abbiano comunque ci sia un fil rouge, ci siano dei punti di risonanza, dei dialoghi tra i vari saggi proposti. E dicevo, da quanto emerge un po' da questi saggi contenuti un po' nel volume, il virtuale viene sempre più visto appunto, come dicevo prima, come un paradosso ontologico, ad esempio nel saggio di Diolato o nel saggio di Surace come un costrutto semiotico, come un costrutto che ha una vita semiotica piuttosto che c'è uno slittamento, diciamo, si propone uno slittamento del piano ontologico a quello fenomenologico e quindi per trovare appunto nel virtuale degli effetti surreale dobbiamo fare in qualche maniera anche questo esercizio di trasmissione di slittamento. Quindi una sorta di spazio per una creatività sempre più orientata, almeno in alcuni casi vengono affrontati nel mio intervento e un altro intervento, in particolare anche il tema appunto dell'intelligenza artificiale e dell'intervento degli algoritmi, soprattutto quelli più flessibili, i cosiddetti GAN, all'interno della business e della creatività dell'audiovisivo e del cinema in generale. quindi un virtuale dicevamo come potenza, un virtuale che non si oppone ovviamente al reale riprendendo dell'esimo ma che si oppone piuttosto all'attuale un reale un virtuale che possiede una piena realtà riprendendo appunto le parole una parte un virtuale che è parte integrante dell'oggetto reale che è una realtà piena che è una potenza con una realtà propria appunto una realtà propria capace però di proiezione di effetti su appunto l'altro volto che è quello del reale in questo caso. Quindi un oggetto evento dotato di ontologia ibrida secondo Diodato ma soprattutto uno spazio performativo quindi uno spazio performativo di relazione di individuazione un interstizio appunto tra tra queste pieghe di cui accennavamo quindi come occasione spazio luogo interstizio come occasione di di nuovi costrutti di senso per lo meno di territorio di esplorazione e anche di ricerca. Per chiudere quindi i contributi qui proposti evidenziano alcuni nodi teorici emersi durante la giornata di studi del 2018 che sono alcuni nodi appunto quelli dibattuti sono quelli sul piano ontologico come accennavamo prima dell'immagine della manipolazione dell'immagine quello relativo anche al ruolo della tecnologia dell'intelligenza artificiale appunto nel campo dell'arte e della cinematografia come quello del ruolo del corpo ad esempio dello spettatore delle nuove forme di fruizione che si fanno atti creativi all'interno di installazioni che fanno uso di tecnologie virtuali o all'interno comunque appunto di percorsi museografici e dispositivi museografici che fanno uso appunto di tecnologie virtuali un elemento a mio avviso che accomuna gli interventi è anche quello di uno sforzo si legge secondo me tra le righe uno sforzo di cercare di produrre una ricerca anche in termini semantici di strumenti linguistici nuovi insomma cercare appunto di superare come dicevo prima come abbiamo cercato di fare noi con quella figura del farmaco piuttosto del giano bifronte di superare un po' queste dicotomie con le quali spesso si imposta il rapporto tra reale e virtuale ma appunto per sviluppare comprendere indagare con un orizzonte di senso il più ampio possibile appunto il virtuale e nei saggi contenuti c'è questo sforzo meno male tutti accettano la nomenclatura e la semantica ormai vulgata diciamo è data per accettata perché comunque sarebbe troppo complesso riconfigurare così in termini nuovi la discussione così nella realtà però insomma nei saggi si parla di realtà modificata piuttosto che realtà aumentata o piuttosto di esperienza aumentata o di attualizzazione di attualità virtualizzata o di virtualità di attualità virtualizzata o di virtualità attualizzata insomma ci sono vari tentativi però magari Federica se vuole può approfondire la questione sì effettivamente la la ricerca sul nuovo linguaggio è di fatto uno dei fili conduttori in realtà che tiene assieme anche il primo volume ed è fortemente intrecciata con l'altro punto di continuità a mio modo di vedere sempre diciamo la prima parte noi ragioniamo in prima parte e seconda parte perché ovviamente abbiamo tenuto assieme come interrogativi come cose che ci interessava approfondire appunto le due questioni però effettivamente c'è una sfida umanistica che sta sotto cioè è la necessità di riconfigurare un rapporto che appare un po' non tanto da ridefinire nei termini della delle pratiche che poi effettivamente già sono in atto ma nei termini di quello che è un pensiero e una modalità di approcciare alcune dinamiche che di fatto esistono ma è come se non ci fossero le parole per dirlo e quindi c'è una necessità proprio di ed è una necessità che si vede molto chiaramente proprio leggendo gli interventi come diceva Cristiano sia proprio l'idea di questo sforzo del linguaggio che ogni studioso fa dal suo punto di vista anche questa è una cosa molto interessante perché appunto ognuno tenta un po' di forzare il linguaggio laddove gli sembra insufficiente per dire la diversità di questo tipo di esperienza che evidentemente c'è esiste la stiamo sperimentando ma è come se fossimo un po' in ritardo quindi questo mi sembra un fattore molto interessante effettivamente che tiene assieme i due test ma tiene assieme soprattutto appunto questi sforzi molteplici che provengono da studiosi di ambiti diversi e noi abbiamo tentato un po' di restituire questo tipo di lavoro che poi nella giornata aveva dato un esito molto interessante perché si erano create delle rispondenze delle come dire quasi degli accordi non previsti tra alcuni interventi che effettivamente per esempio lavorano sui stessi temi il tema dell'intelligenza artificiale del GAN è un tema che ha esplorato Cristiano ma ha esplorato una una studiosa francese che è l'Aciutomila e inaspettatamente ci si è trovati a parlare della stessa cosa ma in realtà con due sguardi molto diversi lei proviene da un contesto che è più diciamo legato al mondo dell'arte e quindi lo sguardo è effettivamente diverso quindi un'esplorazione da tutti 360 gradi diciamo anche di altri temi e quindi abbiamo mantenuto le sezioni soprattutto per far vedere come si può lavorare su nuclei di senso e si può veramente fare un lavoro molto più interessante mettendo a disposizione le proprie competenze in una modalità che è quella insomma un po' del lavoro della cultura visuale quindi andando al di là di quelle che sono un po' anche le palizzate disciplinari che risultano essere totalmente insufficienti se vengono mantenute cioè non ci danno più niente di interessante allora nella prima sezione beh abbiamo aperto fortunatamente con l'intervento di Roberto Diodato che noi avevamo identificato un po' come diciamo il nome tutelare di questo tipo di lavoro per i suoi lavori sulla realtà virtuale per il lavoro che continua non solo per il fatto di essere stato uno dei primi studiosi in Italia a parlarne con diciamo una competenza invidiabile ma anche per il continuo lavoro che sta portando avanti proprio sulle dinamiche del virtuale e soprattutto sull'ontologia del virtuale quindi quella che è la domanda di fondo abbiamo detto sull'ontologia del virtuale trova effettivamente in questo intervento di Diodato un po' diciamo dei punti di riferimento dei punti di riferimento sia dal punto di vista diciamo così della storia del problema ma anche di quello che è un approccio che vede in un'idea di un ibrido ontologico una figura oserei dire funzionale estremamente funzionale per capirne qualcosa di più quindi questa idea di relazionalità una relazionalità che esiste nel momento in cui appunto la relazione viene attivata e viene implementata eventualmente anche da tecnologie nel caso ma diciamo così dobbiamo ripensare proprio a partire dall'ontologia quello che è una nuova realtà allora sotto il segno di Diodato così come nel primo lavoro che avevamo fatto nella prima giornata di studi c'era stato Pietro Montani a darci un po' diciamo così una serie di coordinate che sono state molto interessanti anche in quel caso l'intervento aveva incontrato poi una serie di altri interventi in maniera totalmente non prevista allora la prima sezione è la sezione che noi abbiamo voluto intitolare dinamiche del visibile e diciamo così è una sezione in cui appunto si parla di di visibile si parla di visibilità e di modalità nuove anche di intendere questa visibilità all'interno troviamo il mio intervento che magari lasciamo dopo per un eventuale approfondimento che è un intervento però dedicato a Merleau-Ponty dedicato a Merleau-Ponty per i motivi che poi magari spiegherò un po' meglio poi abbiamo l'intervento di Pietro Conte che mi pare di vedere collegato che ha lavorato appunto su sulla questione del fake delle immagini fake quindi questa nuova possibilità di creare di produrre immagini perfettamente false perfettamente vere che lui ha voluto battezzare con un neologismo come pseudografie e pseudografie nel senso di ritratti privi di referenti evidentemente questa dimensione questa realtà questa nuova possibilità dell'immagine crea una ricaduta nei termini del di vari livelli diciamo così di analisi dell'immagine il vero il falso il valore di questa di questa immagine quindi si parla di mockumenti un termine che ha usato appunto Conte ma insomma ha usato anche Cristiano Dal Pozzo in un altro contesto parzialmente in un altro contesto poi abbiamo l'intervento di Arianna Novaga di cui insomma avrei preferito che ne parlasse ovviamente lei ma lei si è interessata a questo fenomeno della in-game photography quindi questa fotografia turistica anche in questo caso falsa che crea un'apparenza di realtà una forma di turismo contemporaneo addirittura che intreccia tra l'altro varie questioni vari medium quindi la fotografia piuttosto che le dinamiche del videogioco l'immersività una serie di domande che evidentemente richiamano ancora in in questione prima di tutto la qualità ontologica di questo tipo di immagine quindi che cosa stiamo guardando qual è la natura dell'immagine che stiamo guardando la seconda sezione è la sezione dedicata alle riconfigurazioni della visione e in questo caso abbiamo appunto un'esplorazione di quelle che possono essere delle riconfigurazioni che avvengono attraverso tecnologie ARVR e abbiamo l'intervento di Federico Giordano che si è dedicato a una esplorazione diciamo così del mondo del videogioco e all'interno del quale ha voluto appunto valutare qual è l'impatto della realtà aumentata e quali sono gli esiti di interazione tra la realtà aumentata e il mondo del videogioco c'è l'intervento di Cristiano Dal Pozzo che appunto ha intrecciato la questione del cinema e della generazione diciamo così di immagini e quindi quello che lui ha chiamato poi un cinema postumano ma immagino che avrà modo di approfondire questa parte poi abbiamo l'intervento di Filippo Ursitti che si è dedicato invece a un lavoro di tipo diciamo diverso nel senso che si è dedicato all'analisi di una serie televisiva che tra l'altro aveva fatto un grande successo che era Chernobyl cercando di intrecciare questa serie televisiva con cercando diciamo così di farla risuonare attraverso la voce di Gunther Anders attraverso lo sguardo filosofico di Gunther Anders e tentando di capire come il virtuale in quel caso ha dato in un certo senso un volto a ciò che la storia aveva cancellato quindi agli individui che avevano vissuto la vicenda di Chernobyl e che erano stati censurati cancellati dalla storia ufficiale come quindi il virtuale possa in un certo senso restituire una realtà ricostruire un fatto reale occultato in altro modo e la terza la terza sezione è una sezione potremmo dire più più artistica nel senso che di fatto nella sezione che noi abbiamo voluto intitolare esporre l'immateriale si trovano dei saggi molto interessanti su quelle che sono le applicazioni se vogliamo o le possibilità di creare spazi e contesti espositivi per esempio nell'intervento di Pamela Bianchi che è una ricercatrice che lavora in Francia a Parigi lei ha analizzato una serie di luoghi non luoghi luoghi totalmente virtualizzati che sono diventati dispositivi e spazi espositivi all'interno di musei che hanno lavorato proprio totalmente sulla dimensione virtuale per creare però un nuovo modo di fruire una nuova modalità di fruizione effettivamente e quindi la sua indagine poi si sposta anche sulla anche sulla grande funzione dello spettatore in questo caso evidentemente i pesi si spostano e l'interazione implica uno spettatore insomma che va interrogato in questo senso Simone Azioni si è dedicato invece all'essere delle opere ha fatto un riferimento il suo riferimento era questo progetto di musei diffusi urbani quindi nelle città di Milano Torino e Palermo street art che attraverso la realtà aumentata entra in interazione con lo spettatore in questo caso rivivifica diciamo la città la rende la rende qualcos'altro la restituisce in un certo senso anche i suoi cittadini rendendola più abitabile rendendola luogo di esperienza diversa rispetto all'esperienza diciamo di una magari di una periferia abbandonata e ne accennavo prima Corina Sciutto Milà anche lei lavora in ambito francese anche lei si è dedicata alla riflessione sui Ghan e sull'esito di queste opere d'arte totalmente create da intelligenze artificiali che evidentemente vabbè a parte di interrogarci sullo statuto dell'opera d'arte ovviamente ma ci interrogano prima di tutto sulla differenza ancora possiamo parlare di una differenza tra vero e falso che cosa è vero e che cosa è falso a questo punto probabilmente insomma anche in questo caso sono una serie di distinzioni per noi classiche o punti di domanda classici che non possono neanche più avere il senso di prima l'ultima sezione sono scenari di mediazione e sono di fatto una serie di interventi che vanno a a vedere qual è l'esito del virtuale qual è la sua ricaduta surreale allora l'intervento di Bruno Surasce per esempio appunto descriveva la necessità di riconfigurare totalmente il rapporto che abbiamo con il virtuale quindi andava a discutere alcune delle classiche partizioni insomma nette per tentare di approcciare il virtuale piuttosto come tramite l'approccio semiotico che è il suo approccio è una semiotica dell'esperienza mediale in cui evidentemente noi dobbiamo dar conto di quello che è la ricaduta la ricaduta sistematica costitutiva della dimensione della virtualità su quella che è la nostra esperienza esperienza della realtà il l'intervento di Lorenzo De Nicolai anche in questo caso è stato un intervento che si è focalizzato sulla sulla questione del fake turismo quindi ritorniamo con un tema che ha mosso molti interrogativi il virtuale quindi genera una realtà che cosa facciamo quando facciamo un fake turismo c'è una effettivamente c'è un'esperienza reale in atto perché di fatto ci sentiamo e percepiamo ciò che stiamo vedendo come qualcosa di vero quindi anche in questo caso c'è un uno scollamento diciamo che va interrogato si crea una frattura tra quella che è l'esperienza e quella che è evidentemente l'idea di verità l'ultimo intervento di un collega dello IUSVEC Matteo Adamoli che si occupa di pedagogia è un intervento che mette in questione un'altra questione effettivamente molto molto urgente molto sempre più urgente che è quella della media education quindi dal punto di vista effettivamente della pedagogia è un tema che ormai è diventato un tema insomma molto esplorato però evidentemente risulta essere quasi un corollario di quella ricerca che dicevamo sulla sulla nuova configurazione sul nuovo interrogativo che ci dobbiamo porre rispetto rispetto all'esperienza del virtuale se il virtuale va considerato come una dimensione evidentemente da esplorare ma una dimensione necessaria della nostra esperienza in quanto esseri umani va anche ad essere necessaria una educazione un'educazione proprio alla alla domanda diversa un approccio diverso che generi quindi una maggiore facilità di interazione con queste con queste questioni allora questa è un po' la struttura che insomma sono stata abbastanza prolista sulla descrizione ma mi piaceva dare conto anche dei vari interventi che si trovano all'interno perché effettivamente sono interventi diversi e hanno mantenuto anche un taglio critico diverso nella loro proposizione e questo ne fa anche un po' la ricchezza perché effettivamente vediamo degli sguardi che si intrecciano e vengono tenuti assieme probabilmente da interrogativi o da da questioni insomma più che da risposte che vengono date questo è un altro fatto per quanto mi riguarda molto positivo quindi questa interrogazione che non si chiude per forza di cose con una risposta ma piuttosto lascia spazio indica delle delle piste di ricerca più che delimitare dei territori ben definiti ecco questa mi sembrava una cosa interessante sì se volete possiamo quindi approfondire un po' perlomeno i nostri interventi sì magari se riusciamo a concentrare so che sicuramente un peccato però magari invoglia ancora di più tutti i nostri ospiti ad approfondire il testo se riusciamo a stare in 15 minuti così da riuscire a lasciare un po' di spazio a qualche domanda dopo magari quindi proprio ci proviamo di pillole grazie ci proviamo ma allora molto velocemente il mio intervento mi sono concentrato sulle relazioni tra virtuale e cinema in particolare appunto sulle modalità di impiego degli algoritmi appunto di tipo GAN nel settore della creatività e del business del mercato cinematografico ho passo in rassegno alcune applicazioni e pratiche in uso per cercare di presentare un quadro della situazione attuale e mettere a fuoco alcuni nodi teorici quindi nella prima parte del saggio mostro racconto di alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale per sviluppare modelli predittivi e quindi nel campo appunto degli investimenti o meno di produrre o meno investimenti come strumento di appoggio per coloro i quali intendono investire su un progetto cinematografico e quindi da Cinelitica a Scriptbook a Pilot eccetera sono tutte applicazioni appunto dell'intelligenza artificiale come modello predittivo e che partono appunto alcuni analizzando i dati storici degli attori o dei registi nel corso degli anni presenti nel film e li incrociano con dei dati come i temi chiavi del film eccetera altri appunto partono invece dall'analisi della sceneggiatura come Scriptbook altri appunto dalla visione dei trailer per capire quale target demografici saranno poi coinvolti uno più forse due più interessanti solo o perlomeno uno forse anche più critica lascia diciamo così il fianco scopre poi il fianco ad alcune critiche quello dell'università dell'Iowa che sostanzialmente profila un sistema anche qui di intelligenza artificiale per aiutare le decisioni di investimento nella fase iniziale di produzione di un film cosa fa sostanzialmente questo questo sistema prevede il successo di un film sfruttando i dati storici provenienti da varie fonti presenti in rete quindi utilizza ad esempio i dati dei social network come internet movie database con tecniche di text meaning diverse in maniera da estrarre automaticamente appunto diverse caratteristiche e gruppi come chi c'è nel film di cosa parla un film quando il film sarà rilasciato e poi le incrocia insieme quindi chi con cosa e quando con cosa è evidente diciamo che per certi aspetti non c'è bisogno di un sistema di intelligenza artificiale per capire che magari un film con DiCaprio avrà più successo di un film con un attore sconosciuto o con la regia di Scorsese piuttosto che con un regista in opera prima insomma o indipendente altri più inquietanti se vogliamo come quelli della Disney che si basano su un riconoscimento facciale fatto all'interno delle sale quindi un riconoscimento facciale in grado di vedere l'espressione del volto degli spettatori in una sala buia per capire appunto e quantificare quando se funziona o no il film detto questo molto brevemente invece poi c'è una parte che cerco di sviluppare che riguarda poi appunto quale sarà il ruolo appunto del creativo del regista in questo caso e quindi insomma diciamo in generale dell'uomo nella creazione di questo nuovo immaginario diciamo che porta ad esempio c'è un caso di un primo di un primo trailer AI trailer appunto del film Morgan un film di Luke Scott del 2016 realizzato appunto da un computer dell'IDM chiamato Watson cosa ha fatto o cosa hanno fatto quindi hanno dato in pasto centinaio di trailer di film horror e hanno chiesto di estrapocare e poi lui ha etichettato tutto adesso non vi raccomando tutto non abbiamo il tempo ma insomma dopodiché gli è stato fatto vedere il film il montato è stato chiesto appunto a Watson di estrapolare dieci scene ideali appunto per realizzare il trailer ideale del film quindi lui ha estrapolato sei minuti e poi un montatore in carne e ossa in questo caso ha realizzato l'editing finale del trailer ciò che è interessante è ironico è un po' l'esito nel senso che se noi andiamo a vedere a confrontare poi è stato fatto anche un trailer diciamo così ufficiale pienamente umano così però se noi andiamo a vedere i due trailer che sono intracciabili anche in rete c'è un'ironia di fondo l'ironia è che il film racconta la storia di un di un'intelligenza artificiale che si rivella all'uomo e lo uccide tutti quanti ciò che è un po' ironico è il fatto che il trailer così selezionava con le scene selezionate da Watson dall'intelligenza artificiale in realtà mette sottace un po' questo aspetto e quindi c'è questo questo aspetto inquietante insomma anche se ovviamente non volontario ma ironico quindi al di là di questi tutti gli altri esempi che riporto ci sono delle questioni che a mio avviso sono interessanti il grado di simulabilità di un'opera cinematografica che riprendo da Manovic che ha recentemente era uscito con un libro sull'estetica appunto dell'intelligenza artificiale e dice appunto che paradossalmente è proprio il cinema sperimentale a essere più facilmente imitabile dall'intelligenza artificiale perché come vedremo ad esempio io ho parlato di Sunspring poi ve lo accenno proprio per il fatto che ci sono delle alterazioni delle coordinate spazio-temporali e logiche nel cinema sperimentale ben si adattano diciamo così agli errori dell'intelligenza artificiale nel momento in cui si mette a scrivere una scena di attività e poi c'è quella della globalizzazione del pericolo della standardizzazione del gusto una volta che questo è già ben visibile in tutte le pratiche in tutte le app in tutti i filtri che noi abbiamo nelle nostre fotocamere piuttosto che smartphone questo pericolo di una di una standardizzazione del gusto diciamo estetico poi io molto brevemente mi sono fermato mi sono sono fermato su tre case proprio per stare nell'ambito cinematografico che riguardano la preproduzione e la produzione e la postproduzione e sono appunto il grande capo del 2006 di Las Fontries Sunspring che è questo cortometraggio scritto da un bot di intelligenza artificiale e The Other Side of the Wind di Orson Welles che appunto molto brevemente il grande capo adotta un sistema di una tecnica computerizzata di ripresa che è l'Automavision che naturalmente non è un sistema di intelligenza artificiale ma mi sembrava potesse essere utile per introdurmi poi ai due casi successivi che è quello di Sunspring che appunto come vi dicevo è un cortometraggio fantascientifico interamente scritto dall'intelligenza artificiale un sistema di machine learning che ha scritto le note di direzione di scene e anche i dialoghi e appunto come nel caso del grande capo e nel caso di Other Side of the Wind insomma la domanda è come classificare l'intervento dell'intelligenza artificiale all'interno della prassi della storia del cinema The Other Side of the Wind ad esempio come sapete è un film che ha Austin West ha cercato di girare per tutta la vita e poi non è riuscito a chiudere il montaggio le riprese ma nel 2018 è stato acquistato e rilasciato da Netflix e qui cosa hanno fatto i produttori vista l'enorme mole avevano 100 ore di riprese 40 anni di riprese decine decine di formati diversi dal 16 al 35 al quello gonfiato la super 8 a 16 eccetera eccetera hanno trovato in un sistema di intelligenza artificiale una tecnologia di confronto con intelligenza artificiale che ha permesso di fare ordine a tutto quel materiale che avevano che avevano in mano e di dare nel giro di due settimane una prima edit list segnando le riprese corrette da utilizzare in base al montaggio diciamo così non concluso di Orson Welles il primo il primo montaggio e anche le scansioni di qualità superiore qualora ci fossero due o più opzioni per la stessa sequenza per chiudere sto cercando quindi mi sembrava che questi perlomeno gli ultimi due casi si potessero definire appunto o comunque così insomma annoverare tra quello che potremmo chiamare un cinema in qualche maniera postumano nel senso di frutto di un'immaginazione espansa in plurale aumentata cioè segno di questa progressiva erosione dei confini del corpo del cinema in pura informazione quindi in merce di scambio tra uomo e macchina quindi cinema postumano in questo senso un frutto quindi di un'immaginazione espansa e quindi questa immaginazione della tecnologia mi sembrava importante sottolineare questo fatto perché la tecnologia insomma in qualche maniera struttura il nostro immaginario e strutturare l'immaginario significa anche lavorare sull'immaginazione simbolica in qualche maniera e l'immaginazione simbolica è una delle cose che interviene anche nella costruzione della realtà da parte delle persone e quindi secondo me è una questione anche appunto importante da questo punto di vista visto che le nostre vite sono appunto immerse nell'immaginario come diceva Morin quindi qual è l'agente intenzionale chi ha immaginato ad esempio opere come The Next Rembrandt citate da Conte nel suo intervento o da altri chi ha immaginato Sunspring perché si presuppone delle volte che se io voglio creare un'immagine la devo in qualche maniera immaginare prima allora ad esempio nel caso di Sunspring chi ha immaginato sono le centinaia di sceneggiatori delle sceneggiature che sono state date in pasto all'algoritmo o si tratta solo di un procedimento algoritmico oppure non dovremmo dimenticare che l'intelligenza artificiale è proprio frutto della nostra immaginazione cioè in qualche maniera siamo stati noi ad immaginare una tecnologia capace di immaginare come noi e l'abbiamo alimentata dai nostri prodotti dell'immaginazione insomma quindi non è forse il prodotto più sofisticato che abbiamo che abbiamo realizzato ecco questo per quanto riguarda il cinema postumano poi sul finale mi domando se è possibile anche che a un certo punto l'intelligenza artificiale possa creare delle immagini da sola e quindi i prodotti artistici frutto dell'intelligenza artificiale mi domando quando noi studiamo questi prodotti che cosa che cosa stiamo studiando e che cosa stiamo stiamo smettendo di studiare di conoscere cioè che cosa ci dice perché la domanda secondo me non è tanto l'intelligenza artificiale può essere creativa no cioè evidentemente la domanda è un'altra la domanda è che cosa ci dice l'intelligenza artificiale sull'arte che cosa ci dice l'intelligenza artificiale sul cinema sul mercato del cinema sul mercato dell'arte eccetera eccetera quali sono le relazioni che esistono tra i processi creativi e gli automatismi quindi queste sono un po' le domande che poi che poi allargo insomma però non c'è tempo quindi passo la parola a Federica allora spero che mi sentiate sì in realtà ok dunque in realtà avevo delle campane tornerai alla modalità della il mio intervento si è concentrato su Merleau-Ponty perché a mio modo di vedere Merleau-Ponty costituisce un passaggio necessario dal punto di vista filosofico e questo insomma è un po' una mia fissa se vogliamo nel senso che Merleau-Ponty mi sembra essere uno degli autori che meglio ha preparato il terreno anche per noi che parliamo oggi di realtà virtuale è come se Merleau-Ponty avesse soprattutto nell'ultima parte della sua produzione però in realtà se noi andiamo a leggere Merleau-Ponty c'è una una continuità di senso in questo in questo tipo di ricerca ma è come se lui avesse proprio ripensato in maniera così radicale il rapporto del corpo con l'ambiente del corpo nell'essere quella carne del mondo di cui parla che ha proprio fatto un lavoro di ricerca filosofica concettuale ma anche soprattutto terminologica ci ha regalato dei termini delle espressioni che di fatto descrivono perfettamente quella che poi è l'esperienza diciamo così dell'immersività per esempio allora mi sono concentrata in questo intervento che ho voluto intitolare la piega del visibile dinamiche del virtuale tra attività e passività mi sono tentata di concentrare in realtà è un lavoro immenso che andrebbe rivisto ampliato nel senso sull'ultima parte della produzione di Merleau-Ponty quindi visibile l'invisibile ma anche le lezioni che contemporaneamente alla stesura di questo testo incredibile lui portava avanti e soprattutto all'idea della passività c'è un appunto che io riprendo proprio all'inizio mi sembra essere un appunto veramente importantissimo che parla della necessità di occuparsi della passività non dico della passività noi non siamo degli effetti dice ma della passività della nostra attività in questo chiarimento diciamo così di uno spazio concettuale inesplorato da esplorare che è quello della passività della nostra attività stiamo già lavorando su quello che lui ha indicato in altri testi come la dimensione dell'invisibile il visibile l'invisibile si intitola il testo quindi insomma siamo in questo ambito una dimensione quindi in cui noi possiamo leggere una virtualità che da sempre appartiene evidentemente all'esperienza reale che la struttura internamente che la sostiene più volte lui ripete che c'è una come dire una una strutturazione vera e propria da parte dell'invisibile rispetto al visibile allora la descrizione che poi è molto ampia ripetuta mai definita nei termini di una di un concetto stretto quello di carne viene descritta nel testo la cosa che a me interessa molto è proprio questo lavoro di come dire di avvicinamento alla questione della carne attraverso delle definizioni che sono sempre delle definizioni diverse più ampie più penetranti cioè un avvolgimento del visibile sul corpo è il tangibile sul corpo toccante allora in questo senso la carne diciamo è una esperienza completamente nuova dello stare all'interno del mondo in una dinamica di appunto di immersività lo stare nella carne dell'essere che descrive un corpo che Merleau-Ponty dice è più un corpo topologico c'è questo spostamento anche della dinamica sulla necessità di pensare il corpo come una topologia piuttosto che un luogo fisico determinato definito separato dal contesto evidentemente siamo in una tensione il corpo è come una tensione è un campo di forze è una piega più volte viene ricordato anche questo termine gli agganci poi che mi hanno convinto ad andare nella direzione che un po' propongo nel saggio sono tutte all'interno delle note di lavoro di Merleau-Ponty del visibile e l'invisibile soprattutto lì le troviamo e sono degli agganci dei piccoli suggerimenti di direzione nel senso di Leibniz la piega è una piega leibniziana è una dimensione in cui l'essere dandosi come singolarità rimane però l'essere nella sua totalità quindi queste pieghe dell'essere come continuo luogo di creazione e ricreazione di una singolarità che non si stacca mai ma al tempo stesso non può mai essere distinta separata pur non perdendosi c'è la famosa citazione del mare e della spiaggia che stanno in questo rapporto indistinguibile tuttavia non sovrapponibile mai confondibile allora questa complicazione ontologica originaria che Merleau-Ponty descrive ci fa fondare nel senso di una proprio di una ridefinizione proprio terminologica linguistica concettuale filosofica che è necessaria a modo di vedere per descrivere in maniera più piena e più calzante anche quello che è l'esperienza poi del virtuale e allora in questo senso ho voluto attraverso il lavoro di Deleuze sulla piega quindi esplicitamente dedicato a Leibniz ma diciamo così attraverso una dimensione anche del lavoro più complessivo di Deleuze tornare a un possibile cioè andare a un possibile sviluppo di questa linea francese di fenomenologia che si apre una dimensione di un'ontologia nuova attraverso l'esperienza estetica e mi sembra che in questo senso anche per stessa missione dell'autrice d'altra parte Cristina Bussig-Buxman sia in questo senso molto preziosa nel proporci un'estetica del virtuale che recupera esplicitamente questo collegamento sia con Deleuze che con Merleau-Ponty liberando quelli che sono altri passaggi concettuali forti cioè rileggendo la dinamica della piega che proprio lei riferisce in maniera esplicita a Merleau-Ponty ma evidentemente al barocco di cui noi sappiamo lei è insomma una conoscitrice una pensatrice eccezionale e ritrova lo stesso tipo di approccio in questo accoglimento della piega come una figurazione dell'evento la chiama la Bussig-Buxman un'arte del kairos quindi una estetica che diventa estetica del flusso in cui l'evento è all'interno di un fluire e rifluire quindi un evento che non si stacca diciamo dal contesto ma appartiene al contesto ed è il frutto di una interattività di una relazionalità che si dà e al tempo stesso si toglie creando qualcosa di unico esattamente il kairos e quindi ho voluto un po' riagganciare collegare diciamo così come un filo di perle questi passaggi teorici che a mio modo di vedere segnalano un'attenzione che forse è tipica del contesto francese insomma una capacità di cogliere e di ritrovare una sempre nella dimensione dell'attenzione alla questione della percezione quindi la percezione come problema diciamo così un po' classico della tradizione filosofica francese che però diventa attenzione in senso fenomenologico a ciò che nella percezione e attraverso la percezione noi possiamo cogliere e questo cambiamento proprio di statuto che Merleau-Ponti trova un grande passaggio teorico e un grande passaggio anche dal punto di vista linguistico proprio nel senso in cui bisogna reinventare il linguaggio come insomma molti autori hanno sentito l'esigenza di dover fare attraverso una rivalorizzazione della questione della piega barocca che diventa figura di riferimento diventa figura di riferimento perché è figura di continuità di appartenenza che mantiene un'individualità e ci permette poi di lavorare su questa fluidità di relazionalità che è tipica dell'esperienza estetica quindi ho poi io ho citato un po' insomma di lavori che vengono anche analizzati nell'estetica del virtuale della Bussi Glucksmann ma in realtà lei ci dà proprio degli strumenti teorici che sono estremamente interessanti da applicare nell'ambito sempre delle arti quindi noi ci siamo un po' dedicati alle arti ma mi pare che le arti siano un ambito dove la sperimentazione è una sperimentazione estremamente interessante molte volte quindi un tentativo di fare un po' se vogliamo un passo indietro per ritrovare delle anticipazioni che forse ci proiettano ancora di più nel futuro rispetto a quello che vediamo oggi io mi fermo qui poi se avete delle curiosità anche perché sennò diventerai lunghissima grazie grazie mille allora forse abbiamo il tempo almeno per qualche domanda quindi invito chi vuole porre qualche domanda a prenotarsi nella chat che quindi Rosa adesso attiverà e intanto vorrei fare io una domanda ai nostri due ospiti una domanda che in qualche modo collega un pochino i vostri due interventi nella parte finale appunto dell'intervento di Federica Negri troviamo un riferimento all'architettura che è un ambito che mi interessa particolarmente e attraverso appunto qualche esempio si parla lo riformulo con le mie parole del calcolo che attraverso il digitale quindi il parametricismo permette all'architettura di assumere una particolare riforme no? quindi un calcolo che pensa anche diciamo e determina una vera e propria estetica o almeno l'estetica di alcuni prodotti architettonici contemporanei ma che comunque risale già a partire diciamo dagli anni 90 da da Guerri quindi da quelle sperimentazioni e mi collego qui allora al saggio di Cristiano dal Pozzo in cui si parla appunto anche qua di una capacità non di creare ma di generare poi magari Cristiano può approfondire della dell'intelligenza artificiale no? e quindi si lasciano aperti un po' di interrogativi rispetto appunto alla capacità di istituire una vera e propria come dire estetica dell'intelligenza artificiale ecco vedevo questo parallelismo questo elemento che si richiama tra i vostri due saggi quindi vi chiedo diciamo in maniera più diretta da una parte quindi se si determina nella vostra visione o meno un'estetica dell'intelligenza artificiale del calcolo computazionale in questo caso anche riferito all'architettura e se questo forse è una domanda molto grossa in qualche modo nel saggio di Cristiano Dal Pozzo si parla molto appunto di immaginario lo citava verso la conclusione anche del suo intervento se si può effettivamente parlare di immaginario parlando di intelligenza artificiale ecco queste domande inizio a rispondere dicendo che diciamo così la proposta che io ho fatto mia è un po' appunto la linea di lettura della Bussi Glutzmann ma mi sembra convincente è quella che ricollega queste sperimentazioni che sono rese possibili da nuove tecnologie quindi non solo nuove tecnologie ma anche la presenza di nuovi materiali che si prestano a particolari torsioni che sono estremamente diciamo funzionali anche nella costruzione di alcune strutture che magari fino a un certo punto non erano neanche pensabili lo ricollega a quel gusto della sperimentazione e a quella gusto proprio dello spingere fino all'estrema conseguenza tipica del barocco dell'estetica barocca quindi una rilettura dell'estetica barocca estetica barocca in cui però noi dobbiamo andare a ridefinire che cosa intendiamo per estetica barocca quindi intendiamo proprio uno sguardo che scruta il visibile come colmo di possibilità di variazioni di molteplicità di virtualità che a quel punto l'artista si incarica di mettere sotto lo sguardo di tutti quindi attualizzare se vogliamo attraverso la figura tipica che viene richiamata per spiegare un po' è quella dell'anamorfosi ma attraverso quello che è proprio un gioco di rovesciamento continuo di quella specie di guanto di cui parlava Merleau-Ponty è come se l'artista riuscisse a rovesciare ad aprire la piega e a farci vedere dentro allora in quel senso anche l'architettura e gli esempi architettonici che mi avevano colpito effettivamente poi io li ho indicati li ho messo anche le immagini proprie perché sono delle specie di strutture che vengono fuori e come dire ci fanno avere un'esperienza completamente diversa proprio dell'ambiente in cui noi ci troviamo quindi in un certo senso aprono questa virtualità esperienziale attraverso effettivamente sì certo c'è tutta la questione della progettazione architettonica che è estremamente interessante in quel caso ci sarebbe molto da approfondire ma la cosa interessante è che sono gli stessi architetti che poi ci lavorano gli stessi gruppi di architetti in qualche caso che hanno creato quelle strutture che stanno procedendo proprio su una su una linea che è una linea di ripensamento di una vera e propria estetica in quel senso quindi assolutamente secondo me c'è una linea estetica da approfondire che ha a che fare con il barocco secondo me sì in questo senso con questo tipo di eccezione del barocco sì per quanto mi riguarda se non ricordo male proprio la cupola del Louvre via Abu Dhabi è stata progettata da un algoritmo credo quindi a proposito di architettura e di intelligenza artificiale ci sono questi intrecci sempre più sempre più praticati poi per quanto riguarda l'estetica dell'intelligenza artificiale e la questione della creatività presunta tale è chiaro io parlo di capacità generativa degli algoritmi e non di creatività proprio per distinguere i due nettamente le due cose si tratta spesso di un trasferimento di stile più che di un no cioè quando noi pensiamo alle modalità in cui appunto vengono organizzati gli algoritmi di machine learning di autoapprendimento sostanzialmente lavorano come Manovic dice fa un paragono interessante nel suo testo dice ma non è che in fondo questi algoritmi lavorano come dei teorici dell'arte perché gli diamo praticamente loro cosa fanno vedono un sacco di opere rintracciano degli schemi dei pattern comuni tra queste opere dopodiché gli diamo delle opere nuove e loro le classificano in base ai pattern che hanno rilevato nelle opere precedenti quindi Manovic fa anche questa provocazione che io riporto nel testo perché è interessante perché poi in fondo come lavora come lavora uno storico dell'arte uno storico del cinema piuttosto quindi c'è questo parallelismo interessante inquietante per certi aspetti anche i grandi artisti diciamo il fatto che ci sia un mimetismo da parte dell'intelligenza artificiale nel senso che quello pensiamo del next Rembrandt piuttosto che altri casi l'intelligenza artificiale in questo caso fa come appunto dice Zinisca un trasferimento di stile una mimesi che non è una vera mimesi di arricchimento del reale ma è proprio una mascherata se vogliamo come dice lei nel senso che è un puro trasferimento una riduzione della creatività a un attuazione di regole di principi di regole quindi in questo senso l'intelligenza artificiale genera però è interessante anche che però se riesce a generare qualcosa come the next Rembrandt che per carità non è un dipinto su una tela è una stampa eccetera però d'altra parte è inquietante anche o comunque interessante la domanda da porci che gli artisti sono anche molto simili a certi ma agli algoritmi insomma perlomeno a certi grandi artisti si tratta di domande che in realtà insomma nascono naturalmente già molto prima già con la fotografia si poteva si poneva questo problema della generazione automatica di relegare l'uomo al di fuori della creazione della riproduzione della realtà quello che secondo me è interessante è più che altro appunto non chiedaci se l'intelligenza artificiale creativa ma appunto che cosa ci dice l'intelligenza artificiale appunto sui processi creativi dell'uomo sulla produzione dell'immaginario simbolico dell'uomo chiederci che cosa significa essere anche appunto spettatori oggi di questi tipi di opera poi è chiaro che la parte sulla questione dell'autore è una questione sempre aperta che non nasce naturalmente oggi ma che vede nella una riconcettualizzazione che è una nella figura dell'autore che evidentemente è una figura sempre più è un'idea più espansa estesa di autorealità no come cercavo di raccontare prima quando appunto raccontavo di questi di questi casi va bene grazie mille grazie davvero allora vedo che nella chat ci sono due domande allora procederei a raccoglierle perché abbiamo veramente dieci minuti per chiudere questo nostro incontro quindi una domanda da parte di Pietro Conte che peraltro è anche uno autore di uno dei contributi all'interno di questo volume e da parte di Anna Caterina Dalmasso che è una ricercatrice che fa parte del nostro progetto di ricerca quindi prima Pietro e poi Anna Caterina grazie grazie Fabri ciao Federica ciao Cristiano mi spiace che non sia qui Arianna parlarci del suo bel intervento del suo bel saggio abbiamo veramente pochissimi minuti io vi faccio la domanda per cui staremo qui altre tre ore dunque mi sembra che questo libro dia corpo a una domanda che inquieta il gruppo il gruppo di ricerca di Anna Icon da un bel po' di tempo cioè di quale virtuale parliamo quando parliamo di virtuale l'hai detto anche tu Cristiano presentando il volume e vi richiedo a entrambi se sia secondo voi un dovere un obbligo stringere provare a stringere il campo sulla definizione stessa di virtuale per cercare di distinguere tra videogiochi unicornetti algida GAN AI cinema e la realtà virtuale o aumentata in senso stretto oppure invece se sia necessario lasciare aperto il campo così come testimonia questo volume eccomi mi unisco alla domanda di Pietro abbrevio moltissimo la domanda che avevo riferendomi a un'altra coppia di termini che è abbastanza cruciale per le ricerche del nostro gruppo che mi sembra di diciamo soprattutto rispetto al binomio reale virtuale che metteva a fuoco Cristiano nella sua introduzione l'altra coppia che mi sembra un po' emergere da molti dei contributi è quella di immersività interattività come un po' una una coppia una polarità che in qualche modo si si trova a convergere ma anche a divergere diverse fenomeni che sono affrontati e mi chiedevo un po' in che modo la vedevate in opposizione o in pandan con la coppia reale virtuale inizio tu inizio io io vado molto veloce per quanto mi riguarda e per quanto insomma quanto avevo anche tentato di un po' far vedere secondo me è necessario interrogare la questione del virtuale tentando di mantenerla aperta quanto più possibile perché si rischia di stringere troppo e perdersi qualche elemento fondamentale della dimensione del virtuale il virtuale è possiamo dire è una un concetto stratificato è un concetto multiforme ha necessariamente una serie di significati che sono forse anche quelli più banalizzati non perché sono banali ma perché vengono anche raccontati di più però di fatto noi proprio il mio tentativo poi di recuperare Merleau-Ponti aveva in realtà a che fare anche con questo cioè se noi andiamo a vedere ci sono questioni che hanno a che fare con il virtuale di cui stiamo parlando che emergono in contributi lontani da dove andremo a cercarli classicamente quindi questa secondo me è una questione che necessariamente ci impone di mantenere quanto più possibile le orecchie tese e il significato ancora aperto e questo ha anche a che fare con la questione di immersività interattività mi sembrano essere due concetti come virtuale reale insomma che riemergono sono in un rapporto che non deve essere ancora esplorato ampiamente non non li vedo in opposizione non vedo però insomma poi ovviamente secondo me e anche questo è il bello che non è che noi curatori la pensiamo proprio esattamente esattamente su tutti i punti quindi c'è anche un'esperienza diversa di ricerca che ci porta magari ad avere delle posizioni divergenti su alcune questioni però finisco perché il tempo ormai è tiranno sì anche io allora molto brevemente quale che virtuale parliamo quando parliamo di virtuale giustamente Pietro diceva stringere il campo oppure lasciare aperto noi un po' abbiamo fatto questo passaggio dal primo al secondo volume diciamo nel senso che abbiamo fatto abbiamo fatto questo passaggio che se vuoi in un certo senso è inverso siamo partiti focalizzandoci sulla realtà virtuale e poi invece abbiamo allargato il campo che forse è un procedimento mi rendo conto forse anomalo nel senso che di solito magari si fa il contrario si cerca di andare un po' ad imbuto specializzarsi però noi abbiamo fatto questa scelta proprio per lasciare più aperta il campo possibile proprio perché come diceva Federica vorremmo cercare senza presunzione ma insomma di cercare di allargare il campo perché appunto cercare di interrogare l'orizzonte del senso del virtuale ci rendiamo sempre più conto che necessita di approcci e gli incontri come questa sera insomma lo dimostrano gli approcci di provenienze diverse per quando riguarda le coppie immersività interattività reale virtuale noi appunto abbiamo impostato tutto sulla sulla questione più che altro sulla dicotomia o perlomeno non sulla dicotomia ma sulla commissione più che altro tra reale virtuale e piuttosto appunto tra virtuale attuale secondo noi è un po' un punto fermo questo che ci aiuta ad orientarci all'interno della ricerca epistemologica perché se non abbiamo se non abbiamo nemmeno questo tentativo insomma di perimetrare perlomeno non avere una definizione fissa certo ma perlomeno di perimetrare il campo di indagine si rischia si rischia di perdere un po' la bussola io immersività interattività sicuramente è una coppia che va indagata soprattutto nel campo della realtà virtuale io in altri in altre parti preferisco recuperare il termine di interpassività spesso per quanto riguarda la realtà virtuale proprio perché appunto l'interattività non è mai poi così così vera nel campo della realtà virtuale lo sappiamo molto bene però l'interattività è comunque segno di relazione è segno appunto di è processo di individuazione e quindi è il terreno è l'humus sul quale poi si può poggiare può crescere possono crescere nuovi indirizzi di ricerca grazie mille allora a questo punto siamo arrivati alla chiusura di questo incontro ringrazio ancora i nostri ospiti e darei la parola ad Andrea per i saluti finali grazie 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 a entrambi per i vostri interventi per averci illustrato un testo che indubbiamente ci dà da pensare per queste diverse sfaccettature del termine virtuale e come appunto diceva prima Pietro ci pone la questione se eventualmente cercare dei termini anche diversi per non far sì che il virtuale diventi una notte cellinghiana in cui tutte le vacche sono nere ma torneremo naturalmente su questo punto e grazie a questo libro potremo tornare a discuterne anche all'interno del nostro progetto e quindi ancora grazie ai nostri relatori grazie a Fabrizia che ha moderato e a tutti voi che avete partecipato e vi auguro una buona serata grazie mille grazie molto arrivederci grazie grazie